Siamo a Ravascleto in questo splendido paese della Carnia e qui vicino a me c'è il primo cittadino, c'è il sindaco, benvenuto sindaco, Hermes Antonio De Crignis. Ravascleto, sindaco, sarà sede in Monte Zoncolan delle manifestazioni legate a legare le competizioni del friski, quindi avremo Slopestyle, Big Air e poi Ski Cross. Discipline in cui Ravascleto comunque ha una grande tradizione per quanto riguarda l'ospitalità e l'organizzazione sin dagli anni 90 e poi ricordiamo che il Monte Zoncolan è un'attrattiva anche per i giovanissimi che sono poi il target, gli appassionati di queste discipline. Intanto benvenuti a voi a visitare la nostra località e poi direi che stiamo ripercorrendo una tappa che è quella che ci avvicina a quello che abbiamo già fatto negli anni 90, come dicevi bene, perché in quegli anni abbiamo ospitato le tappe di Coppa del Mondo e giù qua in basso abbiamo avuto proprio il Big Air che è la cosa più bella e più importante perché vedere le evoluzioni che fanno questi personaggi preparatissimi dal punto di vista atletico in aria è veramente eccezionale e ti lascia veramente senza fiato. Poi nella parte bassa Ravascleto, la parte dove verrebbero fatti è chiaramente la parte più bella dove ci può essere il pubblico a vedere perché da là abbiamo la scuola di sci davanti, abbiamo gli alberghi, abbiamo tutto là illuminato e di conseguenza è la parte che noi stiamo valorizzando in questo momento per la realizzazione anche di un campo di giochi per ragazzi sia sulla neve sia d'estate, perciò siamo nel punto centrale come sport di Ravascleto proprio. Ravascleto, Monte Zoncolan che è una delle località sciistiche montane più frequentate durante la stagione invernale, sarà un'occasione sindaco anche per promuovere l'altissimo valore tecnico e anche paesagistico delle piste e dei tracciati del Monte Zoncolan. Beh sicuramente questo è un polo sia estivo che invernale molto importante e molto conosciuto dal punto di vista estivo per quanto riguarda lo Zoncolan e tutti gli arrivi che sono stati in quota e che hanno portato un'immagine a livello internazionale chiaramente molto alto e molto grande, però la nostra stazione anche dal punto di vista invernale dà tanto, ha delle piste difficili, delle piste più facili per tutti i principianti che vengono qua, è un servizio che diamo sicuramente di buon livello, è chiaro ed evidente che la stazione deve chiaramente aumentare un pochettino, deve dare più chilometri di pista e in questo senso ci stiamo lavorando assieme alla regione per raggiungere questi risultati. Poi la parte bassa e la parte determinante è quella chiaramente di mettere a disposizione come potrebbe essere, mentre per il Cross lo Zoncolan è molto importante, per il Big Air che è veramente bello da vedere e porta una visione per tutti coloro che sono qua, diversa, molto divertente, giovanile, ha un po' tutto quello che riguarda un po' la nostra stazione, perciò io direi tutto quello che viene fatto con EOF va valorizzato, portato avanti e diventerà per noi anche un traino per migliorare il nostro piccolo paesino che comunque rimane un paese piccolo a misura d'uomo, ritengo ed è questa una cosa importante per tutti noi perché non dobbiamo stravolgere quella che è la nostra realtà anche se il turismo è una realtà che ci dà sicuramente da vivere ed è molto importante per tutti noi però presentarci come un paese normale senza stravolgere quelle che sono le caratteristiche principali dei nostri paesini di montagna ritengo sia determinante. Quindi dal 21 al 28 gennaio ci saranno tantissimi atleti provenienti da moltissimi paesi esteri qui a Ravascletto sul Monte Zoncolan, l'abbiamo già detto, tre discipline con le qualifiche quindi Slopestyle, Big Air e poi lo Ski Cross, un'occasione anche per coinvolgere il sindaco tutta la comunità non soltanto di Ravascletto ma di tutti i paesi limitrofi e delle valli circostante per questa grande grande festa dello sport con EOF 2023. Il coinvolgimento della popolazione ci sarà di sicuro perché noi siamo una realtà che comunque ha nell'anima lo sport, siamo partiti a dire la verità con il fondo a suo tempo poi è emersa la parte più decisa che è quella del salto che abbiamo portato avanti in tanti di noi, abbiamo avuto anche dei campioni italiani, abbiamo gente che ha vinto in Coppa del Mondo come Morassi e tanti altri, perciò saranno sicuramente presenti a onorarci chiaramente in queste occasioni ma a rimbangare anche quelli che sono stati gli splendori un po' di Ravascletto dal punto di vista dello sport. Poi da pochi anni, diciamo pochi perché insomma non è una stazione molto vecchia dal punto di vista dello sci alpino, abbiamo iniziato questo rapporto ottimo che ci sta veramente dando soddisfazione e che stiamo curando particolarmente e vorremmo veramente portare questa nostra realtà ma sempre mantenendo quella che è sempre le nostre piccole realtà di paese chiaramente senza stravolgere assolutamente niente però dare qualche chilometro in più di pista a quelli che vengono perché in effetti bisogna avere la possibilità di cambiare i versanti e di vedere quello che c'è di bello un po' in tutto il comprensorio della Zoncolan che è decisamente non grandissimo ma è sufficiente per una famiglia che viene a sciare qua e che vuol vivere tranquillamente la sua realtà. EIOF sarà un momento di spunto ma anche di riflessione per pensare come completare quello che noi riteniamo un polo importantissimo per tutta la nostra regione. Grazie.